Ciao, sono Olga di Legomari, un marchio di pelletteria in start up e come azienda giovane abbiamo pensato di fare un qualcosa che fosse in sinergia con altre aziende napoletane e siamo stati davvero molto fortunati perché chi ha voluto condividere con noi questa idea progetto sono delle aziende napoletane storiche ed eccellenza. Infatti parliamo della caffettera che ci sta ospitando questa sera qui a Piazza dei Martiri, c'è il Museo del Tesoro di San Gennaro, c'è Alilauro, c'è il Cantieri Gaiotta, il Partificio La Leonissa e quindi abbiamo fatto insieme questo calendario legato a Napoli che si chiama Caffè Sospeso. Perché il Caffè Sospeso? Perché se ricordate bene una volta la mattina si dava il caffè e si dava il caffè per un altro, per il cliente successivo. E questo che cosa vuol dire? Vuol dire fare un qualcosa che sia comunque a scopo benedico per la nostra città. Quindi da stasera parte questa raccolta fondi che finisce il 6 gennaio e alla fine di questa raccolta, a secondo dei fondi che ci saranno, noi creeremo un'area verde a Napoli. Se volete bene alla vostra città, venite anche qui alla caffettiera che raccogliamo i soldi per un'area verde a Napoli. Grazie. Un'ennafessa è nata in terra, serve il cantante, serve il musicante, viva la poesia, viva l'allegria, la fantasia, soprattutto l'amante. Il mondo deve piacere bene, il mondo deve piacere bene stesso, credando il principe, la principessa, l'oro con l'orfese, inturdate tutti i culumbrini, pur dopo tutto questo, l'oro stanno generale.